E uno dei primi chiudibili ad arrivare su Backpacko fu il Fox Core di Jasper Vox. Beh, un coltello che ci ha dato subito un sacco di soddisfazioni, subito dopo arrivò il Fox Core Baby. E adesso possiamo aggiungere alla famiglia l'ultimo nato, il Fox Core Tanto. Il designer resta sempre il talentuosissimo e amico di Backpacko Jasper Vox. L'ho intervistato per voi e trovate la nostra chiacchierata nelle pagine dei suoi coltelli su Backpacko, nelle pagine dei Core. Beh, Vox disegna davvero tanti coltelli, ragazzi, e ogni volta è un successo. E posso dire che anche questa novità si aggiunge all'elenco delle sue brillanti trovate. È una punta tanto in un chiudibile DC, beh, può essere molto divertente da usare. L'apertura, l'avete vista, è a flipper su cuscinetti. Bang! Un amore col peso della lama generosa. Lama che è realizzata con diverse finiture, ma sempre in N690, temperato a 59 o 60 HRC. Manicatura di mille colori diverse in FRN, cioè nylon rinforzato con fibra di vetro. Lunghezza della lama 75 mm con uno spessore di 4. Clip reversibile in filo d'acciaio armonico, si monta su entrambi i lati, spaziatori spaziali, e ve lo mettete in tasca per soli 135 grammi. Le finiture delle lame sono, beh, qui c'ho la stone washed e la black stone washed, prima brunita, poi lavata nella pietra. Sono entrambe finiture bellissime, abbinatele voi alle manicature come vi piace, sono davvero stupende, e vi permettono di portare un coltello che ha una lama semplice ma funzionale. La lama tanto in un chiudibile di questo tipo, con questo tipo di geometrie, beh, può essere molto divertente. Ah, vi ricordo che ha anche un foro sulla lama per aprirlo in questo modo, nel caso dovesse sembrare più sicuro per alcune operazioni, magari abbiamo dei guanti, eccetera. Ragazzi, il core è un coltello che in tasca sta benissimo, ve lo godete tanto. Del core classico, molti lamentavano un po' l'assenza della punta, o comunque una punta non troppo pronunciata, che in un'edissia ad alcuni fa comodo, e di fatto quando poi comparve il piccolo core baby, fu apprezzatissimo anche per la sua piccola puntina. Ora non avete più scuse, ora avete una profilatura di lama super figa, che sembra tanto Batman, ma è davvero interessante poter portare un coltello di questo tipo, che poi non è neanche troppo pesante. Una lama tosta, cuscinetti a sfera, ma tutta la comodità di un manico in un materiale polimerico. Come sto con due core? Bene, tutti i Fox tanto, di tutti i colori, tutte le varianti disponibili, sono su Backpack.it, dove trovate anche un sacco di altri coltelli chiudibili proprio per tutti i gusti e tutte le esigenze. Ah, il Fox core tanto è disegnato da Jesper, ma è fatto in Italia a Maniago.